Ciao ragazzi, come va? Era un bel po' che non facevo un tutorial all'FPV come molti di voi che mi seguono sanno, non li faccio quando ho qualcosa da dire non è il mio lavoro, è solo una passione, però mi diverte e mi sa che a sto giro era arrivato qualcosa di succulento per informarvi Allora, dopo tanto tempo sono passato anche io al digitale non ci ero passato fino a questo momento e uno dei motivi più importanti era che non c'era l'OSD completo di Betaflight io mi sento male se non c'è l'OSD, non riesco a volare bene, non è la stessa cosa e finalmente è arrivato il modo per avere l'OSD totale di Betaflight sostanzialmente si fa in questo modo, sia sul visore sia sulle Cadix Vista bisogna fare tre passaggi Primo passaggio, ruttare il dispositivo ruttare vuol dire avere l'accesso di root, è un gergo che viene da Linux avere l'accesso di root si fa anche sui dispositivi Android soprattutto quelli un po' più vecchi, ora si usa un po' di meno serve per avere accesso totale al dispositivo quindi ricevi passaggi solo tre primo fare il root, accesso totale al dispositivo secondo installare una specie di sistema operativo aggiuntivo terzo installare un programmino che viene chiamato pacchetto da loro su questo sistema operativo quindi root, installiamo sistema operativo installiamo programmino, tutto qui e poi ci sono due righe da mettere in Betaflight che vi faccio vedere andiamo dall'inizio iniziamo con le avvertenze mi raccomando ragazzi, quando lavorate sulla Cadix Vista o l'Air Unit che sia usate un ventilatore o una ventolina così evitiamo che la stessa si possa surriscaldare che non è mai una bella cosa quindi ventilatore e via altra cosa ragazzi allora questa è una procedura beta cosa vuol dire? che non è garantita al 100% non ci dovrebbero essere e le metto con due virgolette grosse quanto una casa problemi di brick quindi di buttare i dispositivi perché i ragazzi hanno creato anche una procedura per nel caso tornare subito al firmware originale però è giusto dirvelo che sono cose abbastanza sicure perché io l'ho appena fatto sul mio e sul visore e sulle viste di un altro amico subito tutto a posto senza problemi però seguite bene le cose perché stiamo sempre andando a fare un qualcosa di non ufficiale altre informazioni importanti allora l'unico firmware sia per il visore e sia per le cadix vista o le air unit che siano ufficialmente supportato è il firmware 1.00.0606 ora andare a controllare se questo il firmware è molto semplice lato visore basterà andare nel menu stesso diciamo all'interno del visore sulla voce device l'ultima e lì ci sono le informazioni per vedere che firmware è installato per invece controllare le cadix vista basterà usare il dji assistant e vedere un pochettino che firmware è installato ora nel caso ne abbiate uno più nuovo ed è possibile tornare indietro vi consiglio di farlo perché il wiki e le informazioni dicono che è sempre buona norma visto che questo firmware è effettivamente quello più stabile per far funzionare il sistema un'altra cosa importante che però non è scritta nelle informazioni nelle istruzioni ma guardando un po' in giro vedo che fanno un po' tutti così per sicurezza è quando si aggiorna il visore di farlo senza senza la sd inserita ok? quindi rimuovete la sd e poi iniziate il processo allora aprite il vostro browser e andate all'indirizzo fpv.vtf non vi preoccupate che vi metto tutti i link in descrizione ovviamente allora collegate i vostri occhiali all'alimentazione li accendete li collegate all'usb e togliete la scheda sd dopodiché andate in alto a sinistra dove c'è il menu l'hamburgerino cliccate su root root device e dovreste trovare il vostro visore lì collegato a una porta seriale cliccate su connetti e lui inizia a fare tutto l'installazione allora vi potrebbe chiedere sul passo 2 o passo 3 power cycle your device now non vuole altro che spegnete e riaccendere gli occhiali non subito però fate passare almeno una decina di secondi con gli occhiali spenti mi raccomando fatto questo dovrebbe dire all done il tuo dispositivo è pronto fatto questo che cosa potete fare potete andare di nuovo sul root e potete vedere che lui dice device a reti rooted tutto a posto possiamo andare avanti di nuovo menu e stavolta vtf os quindi sistema operativo andate nel menu e cliccate install molto semplice stavolta è un pochettino più veloce non dovete fare altro che cliccare vtf os e cliccare install tutto qui una volta finito se di nuovo tornate sul menu e cliccate su vtf os vedrete che la voce install sarà grigia questo cosa vuol dire vuol dire che non la potete cliccare perché avete già installato vtf os quindi questi sono i primi due passaggi fatto questo andiamo ancora nel menu e andiamo su package manager ovvero i programmini che possiamo installare su questo sistema operativo ci sono tante cose interessanti tra cui anche ad esempio la possibilità di avere l'fcc e il lac da 1200 mw sempre attivi anche senza usare il il file naco che si mette nella sd o nella cadix vista che sia comunque in questo momento la cosa che ci interessa è la voce msp osd non altro quindi semplicemente andiamo su msp osd e andiamo a cliccarci install l'installazione sarà molto veloce una volta terminata l'installazione la pagina si ricarica e vedrete che dove c'è msp osd invece di starci il pulsante install c'è il pulsante remove quindi vuol dire che l'abbiamo installata per quanto riguarda la cadix vista i passi sono esattamente gli stessi quindi non è che ve li faccio rivedere sarebbe una ripetizione l'unica cosa che vi ricordo ancora è di usare una ventolina o un ventilatore per fare in modo che la cadix non si surriscaldi allora ci siamo quasi aprite betaflight collegate il vostro drone e andate nel menu porte perché porte perché dobbiamo vedere a quale uart è collegata la cadix vista quindi dobbiamo vedere nello specifico dove c'è scritto configurazione msp a quale uart corrisponde nel mio caso come vedete corrisponde alla uart 2 tenete presente questo 2 nel mio caso perché perché adesso dobbiamo scrivere delle righe in cli che sono queste e ovviamente ve le metto nella descrizione e la seconda stringa dove vedete che finisce con xxx al posto di quell'xxx devo mettere un numero in meno rispetto alla uart che ho trovato quindi nel mio caso era la uart 2 devo mettere 1 fosse stata 1 devo mettere 0 fosse stata 3 devo mettere 2 e così via quindi nel vostro blocco note configuratevi le stringhe così come vi servono poi le copiate e le andate dopo a incollare nel cli come sto facendo io in questo momento vedete vado a mettere 1 qui perché ho la uart 2 con lmsp e semplicemente poi me le vado a copiare e incollare all'interno del cli tutto qui molto semplice e ricordatevi battere save alla fine perché altrimenti tutto ciò che scrivete poi non viene salvato quindi prendete le stringhe le incollate battete save e invio e finalmente ragazzi abbiamo finito abbiamo il nostro osd attivato guardate qui quanto è bello abbiamo tutto quello che volete quindi così come lo usavate sull'analogico ora si può usare sul digitale per me questa è veramente una figata allucinante era uno dei motivi principali per cui non ero passato ancora al digitale infatti vi dico la verità io stavo valutando il digitale di Fatshark il Wilkesnail o come cavolo si chiami appunto perché lì c'è un supporto nativo totale dell'osd di Betaflight in questo momento invece anche con il sistema DJI anche se con alcune limitazioni come abbiamo visto che bisogna avere un firmware in questo momento funziona tutto perfettamente ho fatto già delle prove veramente è bellissimo è come volare in analogico con tutti i parametri che eravamo abituati a vedere ma con la qualità la portata e la sicurezza del digitale ok direi che è tutto io vi saluto e come sempre se vi è piaciuto il video e vi è stato utile un bel like vi iscrivete al canale e mi scrivete nei commenti se avete qualche domanda o qualcosa non vi è chiaro alla prossima